cari amici di visione tv benvenuti a un nostro nuovo approfondimento è tornato a trovarci cosimo massaro economista scrittore ciao cosimo caro francesco grazie di cuore per avermi invitato nuovamente per me è sempre un piacere stare qui con te e con tutti coloro che ci guardano e ci seguono ecco tu ormai sei di casa qua su visione tv facciamo vedere l'ultima fatica letteraria di cosimo massaro eccola qui scontro globale la battaglia spirituale i figli della luce contro i figli delle tenebre ecco insomma uno si aspetterebbe cosimo magari un approccio più materialista più economicista ecco invece tu ci stupisci sempre e adesso l'hai portata su un campo la battaglia su un campo dove magari quelli che creano la moneta o gestiscono gli affari soltanto economici non non vanno volentieri cioè quella spirituale ci vuoi spiegare qual è la tesi di fondo del tuo libro allora francesco la parte superiore la prima parte sicuramente e abbiamo comunque sempre la battaglia terrena e lì sono partito con la battaglia che come dice anche monsignor vigano tra i figli delle tenebre e i figli della luce e da questo punto di vista naturalmente li parlo anche del grande reset di tutto il deep state che sta governando il mondo in questo periodo storico l'abbiamo analizzato in tante in tante nostre interviste quindi il neoliberismo che sta prendendo il potere in società insieme a quella dittatura se vogliamo di stampo comunista cinese dove un'elite globale sta mirando a raggiungere il nuovo ordine mondiale e poi attuando anche il loro grande reset controllando la popolazione nel suo nella sua totalità con i loro sistemi di ingegnerizzazione e sappiamo a che punto stanno arrivando tenendo presente anche che la tecnologia oramai riesce a penetrare all'interno del corpo umano e dei sistemi neuronali quindi veramente la cosa sembra da film di fantascienza naturalmente poi tutta la seconda parte la battaglia spirituale ecco da lì mi aggancio un po' a tutto quel discorso metafisico e obiettivamente anche secondo il mio punto di vista pretendere di voler sconfiggere il male sulla terra da un punto di vista economicistico monetaristico oppure solo da un punto di vista politico oppure solo da un punto di vista ambientalista per dire cioè tutte le battaglie che si stanno portando in tutti i piani non ha senso se non abbiamo una visione che vada oltre la dimensione materiale perché questa battaglia per chi crede ha inizio dei piani spirituali e io ne sono convinto di questo quindi dobbiamo come dire andare alle radici dell'uomo e alle radici non solo dell'uomo anche del creatore perché questi signori fondamentalmente odiano l'uomo tant'è che la loro ultima filosofia di punta del regime è quella che mira al transumanesimo e poi successivamente al postumanesimo già la parola stessa dice postumano cioè quindi dopo l'uomo allora questi signori odiando il creatore non potendo attaccare il creatore attaccano la sua creatura quindi l'essere umano da questo punto di vista e in effetti l'uomo che è fatta immagine e somiglianza del creatore viene attaccato quotidianamente francesco forse ci ho perso no no sono qua sono stavo meditando sulle tue parole ecco quindi tu dici che dobbiamo sposare un'angolazione diversa cioè queste persone stanno portando avanti una progettualità malefica ma non lo fanno soltanto per ragioni di arricchimento visto che sono già ricche potenti controllano gli stati cioè hanno un obiettivo più dissimulato e ambizioso cioè quello di distruggere la creazione o perlomeno deturparla ho capito bene la sintesi del tuo ragionamento sì perché se abbiamo una visione semplicemente materialistica non riusciamo a darci una ragione a tutto quello che fanno tanto è vero che questi signori creano il denaro dal nulla cioè ma possiamo pensare che veramente mirano alla ricchezza già hanno tutto ciò che vogliono non a caso voglio dire nei loro progetti e come anche lui fa piacere nell'ultimo intervento anche fatto da Monsignor Viganò ha citato quel monumento che si trova in Georgia dove addirittura ci vogliono depopolare per portarci a 500 milioni cioè questi progetti o questi pensieri solo a pensarli non hanno nulla di umano non hanno nulla di empatico nei confronti della società e quindi dare una spiegazione solamente economicistica dal punto di vista appunto della ricchezza non ti dà le spiegazioni quindi dobbiamo avere necessariamente una visione molto più ampia e da questo punto di vista quindi noi dobbiamo operare con una forza di volontà che vada oltre anche la dimensione materiale cioè dobbiamo consapevolizzare che questo mondo che noi oggi lo stiamo vedendo materializzato in questo periodo storico dove possiamo definirlo dell'apocalisse o della rivelazione dove tutto si svela dove tutte le maschere stanno cadendo in tutti gli ambienti compreso anche quello ecclesiastico e dobbiamo consapevolizzare questa battaglia a origini veramente da centinaia d'anni e come riporto nel mio libro una tappa fondamentale ad esempio è stata la scissione anglicana dove con Martì Lutero e con Calvino da quel punto di vista che cosa è nato? è nato un concetto che andava contro la tradizione secolare e millenaria del libero arbitrio con Calvino e Lutero ad esempio si è infusa l'idea della predetestinazione cioè tutto ciò che accade sulla terra è volere di Dio ma quale Dio? Il Dio loro a questo punto che cosa accade? Il ricco di turno ha detto beh io sono l'unto del Signore se Dio ha voluto che svolgessi questo ruolo vuol dire che lo vuole e se tu sei povero o un altro è povero vuol dire che sono scusa il francesismo sono cazzi suoi da lì nasce pure come dire quella alla Soros come mi sta sfuggendo il termine ora la aiutami un pochettino la filantropia diciamo bravissimo ecco mi sta sfuggendo la filantropia hai visto siamo collegati la filantropia sono più Massaro di Cosimo Massaro vai da questo punto di vista in Inghilterra nasce la moneta debito 1694 nascono tutti quei pensieri dal relativismo dall'illuminismo massonico al modernismo al neoliberismo al liberismo fino ad arrivare addirittura al concetto diciamo del transumanesimo e del postumanesimo da questo punto di vista noi dobbiamo far capire che la battaglia è ancora ancora più indietro va è quella posizione di questi uomini che hanno lottato per distruggere l'ordine naturale delle cose vi faccio un banale esempio per capire a cosa mi riferisco in qualsiasi concetto della tradizione anche pre cristiana qualsiasi cosa che si costruiva doveva avere un concetto millenario cioè doveva essere e andare oltre il trascendente per dire pensiamo anche solo alle costruzioni romane o ai ponti romani dopo duemila anni sono ancora in piedi che qualsiasi cosa doveva essere costruita per essere lasciata alle generazioni future e anche per la memoria degli imperatori che avevano costruito come dire imperi o grandi grandi città o grandi monumenti la stessa cosa valeva per un re o un imperatore e anche se fosse morto come dire in battaglia il suo nome riecheggiava nella storia ecco il concetto della tradizione porta questo porta porta sempre un trascendente quando mentre parlavi mi veniva in mente quel lavoro di beber l'etica protestante lo spirito del capitalismo cioè l'idea della ricchezza non più come diciamo segno di avidità ecco non più ritorno alle alle immagini evangeliche del ricco e pulone condannato per non avere sfamato lazaro oppure la parabola evangelica che spiega che è più difficile che che è un più facile che un cammello passi alla crona di un ago che un ricco entra in paradiso ecco tu dici l'etica protestante ribalta la la il concetto evangelico e condanna il povero e manda in paradiso il ricco ecco questo che è giusto è pienamente ragione e tant'è che in questo modo con l'etica protestante e l'abbattimento del libero arbitrio perché lì con calvino e lutero si è abbattuto il concetto di libero arbitrio tutto ciò che accade sulla terra come dire e si dà si demanda tutto a dio cioè si deresponsabilizza l'uomo di tutte le sue colpe e come dire si accusa dio sia del bene e del male in realtà non funziona così perché nell'universo è un po se vuoi massaro quello che dice eval sa per difendersi di fronte all'insidio del serpente no dice tu ecco la giustificazione il serpente che tu hai messo qua mia come dire non è colpa mia è colpa tua che mi hai creato ma non è così perché noi abbiamo ripeto quella legge universale del libero arbitrio e dobbiamo avere la nostra capacità di scelta tra il bene e il male ecco da questo punto di vista anche nel mio libro nella battaglia spirituale come dire il ruolo del male ha anche un ruolo c'è un ruolo perché se non ci fosse il male non potremmo come dire manifestare la nostra libera scelta tra una cosa e l'altra ecco attento però qua perché scendiamo dentro atmosfere manichè ecco per come l'hai detta qua sembra la tua una decisione al manicheismo cioè come se esistessero due principi di pari forze il bene e il male che si alternano nelle vicende del cosmo ecco capito bene cioè tu aderisci alla filosofia dei mani del filosofo persiano non è proprio così non è io la interpreto in altro modo io credo in un dio creatore che a quel punto il dio creatore è monista cioè e accentra tutto e anche il bene e soprattutto è solo bene e amore però da questo punto di vista nel momento in cui si crea una dimensione materiale e tutto il materiale non solo il materiale tutto l'universo è fatto di opposti c'è appunto il bene e il male la luce e l'oscurità e quindi c'è tutto l'uno e il contrario di tutto in questa dimensione noi abbiamo appunto il libero arbitro per poter scegliere venire sulla faccia della terra come pianeta scuola e come dire manifestare ciò che noi siamo perché questo è un pianeta scuola cioè l'anima si incarna appunto per imparare per imparare da a proprio se vogliamo a volte a proprie spese le le decisioni da prendere però se non abbiamo la capacità cioè immagina tu dove si stesse se esistesse solo il bene e non potremmo scegliere o mettere in atto il nostro libero arbitro cioè questo appunto è un pianeta scuola dove ci tocca venire per imparare e anche se a volte le decisioni sembrano costrette perché il male ti costringe a prendere alcune decisioni al punto addirittura magari di toglierti il mangiare bisogna sfruttare e lavorare e lavorare sulla forza di volontà per non cadere nella tentazione sappiamo anche le tentazioni che per dire da questo punto di di vista a gesù cristo che sono avvenute diciamo quando è stato nei 40 giorni nel deserto ecco naturalmente gesù cristo era dio fatto carne è diventato uomo io non sicuramente lui è stato l'esempio la via la strada da questo punto di vista però ci ha indicato la strada non tutti noi riusciremo a fare quello che ha fatto sicuramente lui però la strada è quella senti cosimo tu prima dicevi esiste una spiritualità benevola una spiritualità di luce che si rifà all'esempio della del cristo alla sua vita al suo sacrificio però se c'è diciamo una polarità positiva evidentemente ci devono essere anche delle suggestioni negative che invece guidano la mano di questi esseri tenebrosi che comandano sul piano contingente terreno dove attingono secondo te quali sono diciamo le radici culturali esoteriche che tengono insieme questi globalisti che impongono oggi scelte anticristiane in ogni caso nemiche di un di tutto ciò che sembra di buon senso agli occhi degli uomini allora vorrei fare una premessa un pochettino più ampia da qualsiasi in qualsiasi anche tradizione antica di qualsiasi cultura antica c'è sempre stato come dire un'entità negativa rappresentata da qualcuno se vai ad esempio nella cultura tolteca venivano definiti voladores nella nostra cultura cristiana cattolica vengono definiti demoni nella cultura magari greca antica gli arconti cioè abbiamo sempre delle sorte di entità che rappresentano il male da questo punto di vista è come dire il male ha operato sempre sulla terra in qualsiasi modo in maniera camaleontica ha preso a volte spesso il potere negli ultimi secoli sicuramente e non solo negli ultimi secoli comunque da sempre ha utilizzato la moneta il dio mammona a cui si riferiva anche gesù cristo tramite il denaro come dire si è comprata le persone di potere o si è comprato i posti chiave del potere per gestirlo in un determinato modo soprattutto oggi vediamo come attraverso il denaro riescono a controllare tutti i sistemi con i loro mille tentacoli di potere dall'informazione alla politica alla magistratura a diciamo le forze dell'ordine basta mettere gli uomini chiave ai posti di comando e lei e lei gestita questa cosa da questo da questo punto di vista quindi il male ha avuto sempre questo suo ruolo ora bisogna capire come dire nell'arco dei millenni dove siamo arrivati cioè questo è un punto clou della storia ecco perché secondo me questo è un punto epocale della storia che molto probabilmente non sapremo quanto durerà se è realmente il periodo dell'apocalisse o della rivelazione dopo questo periodo sicuramente il male sarà sottomesso e a quel punto come dire anche sulla terra riusciremo ad avere anni o secoli di benessere e anche nella come dire nella storia antica si parla di quel famoso paradiso terrestre oppure di quel periodo dell'età dell'oro di molte culture prediluviane da cui voglio dire sono arrivati dei strascichi storici no però nei miti sono passate evidentemente ad un certo punto della storia come dire si sono aperti dei portali secondo alcuni concetti esoterici oppure secondo anche la mitologia o la mitologia oppure ciò che viene passato viene fatto viene passato attraverso anche la bibbia l'esempio del del serpente e del peccato originale cioè metaforicamente voglio dire questi messaggi da tantissime culture ci arrivano ad oggi per capire che a un certo punto il male ha preso il potere sulla sulla terra in un determinato modo poi a volte noi li chiamiamo magari demoni li chiamiamo diavoli in altre culture appunto si chiamano in un altro modo però l'elemento diciamo l'archetipo che riflette una tendenza malefica c'è e esiste e a questo punto vado in conclusione per esprimere questo concetto anche nella scatologia comunque cattolico cristiana se riflettiamo un attimo lucifero per dire era il più uno degli angeli più belli più forti no metaforicamente parlando che si è ribellato a dio ma obiettivamente era sempre un angelo se avesse voluto cioè contrapporsi a dio nel senso andare veramente in lotta dio da questo punto di vista il creatore l'avrebbe schiacciato come una formica perché non poteva nulla nei suoi confronti se a questo punto l'ha lasciato operare un motivo ce l'ha però gli ha detto non devi togliere il libero arbitro cioè il concetto di libero arbitro deve rimanere a questo punto vediamo anche come operano questi signori anche in maniera odierna vedi che le verità ce le sbattono in faccia ce le dicono in tutti i modi alla fine la decisione la devi prendere sempre tu la devi prendere ma pensa un po anche al al come dire all'obbligo vaccinale cioè ti mettono l'obbligo ma la firma su quella specie di contratto la devi mettere sempre tu la devi mettere cioè non so se è chiaro l'esempio che voglio fare sì sì no è chiarissimo l'imposizione sulla base della paura tipico di qualsiasi atmosfera demoniaca il rispetto della libertà di scelta dell'uomo che prende decisioni sulla base del suo convincimento invece crea atmosfere di bontà atmosfere celeste questo ci può arrivare è una cosa che è abbastanza chiara senti mentre parlavi cosa tu parlavi di rivelazione di apocalisse ecco mentre parli mi vengono in mente dei libri ora me ne è venuto in mente un altro e sono i tre dialoghi dell'anticristo di soloviev e sembra sembra diciamo come dire profetizzare i nostri tempi quel quel lavoro perché questo anticristo collettivo che oggi vince è proprio come lo immaginava questo grande profeta cioè buono politicamente corretto delicato amante dell'ambiente magari pure come dire ecumenico feroce nella sostanza ma dolce nella forma ecco diciamo che un mario draghi all'ennesima potenza è mario draghi l'anticristo il volto diciamo l'archetipo dell'anticristo collettivo di oggi guarda hai citato un autore che io ho riportato nel mio libro e ho riportato proprio la parte dell'anticristo di soloviev e hai detto benissimo io quando l'ho letto anni addietro e poi l'ho riletto oggi agli occhi di ciò che sta accadendo in questo momento mi sono venuti i brividi ho detto ma guarda un po' è stato scritto alla fine del 1890 in quel periodo è stato scritto ora non ricordo la data precisa come ha anticipato i tempi questo anticristo si era manifestato appunto ambientalista ecumenista e umanitarista è lo specchio di quello che sta accadendo oggi però non so se identificalo con draghi o con quella persona o con un'altra persona non ho questo potere sinceramente però lo identifico pienamente col concetto con quel pensiero unico dominante tipico come dire dei signori di davos per dire no sai del loro ambientalismo e a cui poi si sono asserviti anche e si è servito questo papa che non riteniamo nemmeno papa nel senso che sappiamo come è stato collocato lì al potere vedi che oramai è diventato una chiesa funzionale all'uomo e non una chiesa a salvare le anime e una chiesa funzionale ai voleri di dio quindi hai detto in maniera corretta e tant'è vero che ripeto solo vi avevo riportato perché è stato veramente profetico su su questo punto senti cosimo il fatto che oggi siamo al centro di questa di questo clima dittatoriale che comunque abbraccia ogni angolo della terra con delle persone che oramai sposano un approccio comunicativo politico grottesco cioè ballate con la mascherina uscite fino alle 10 ma alle 10 e 5 tornate a casa fatevi in frullato di dosi di vaccino oggi 18 domani 20 anni poi 30 40 tombola insomma siamo oltre il ridicolo siamo dentro il grottesco il grottesco da quello che tu hai potuto capire con i tuoi studi è un tratto tipico del demoniaco assolutamente si guardate lo riportiamo ora su questo ma lo possiamo dire anche come diceva auriti lui diceva anche sulla questione monetaria diceva questa truffa sulla base monetaria cioè è talmente semplice che la capirebbe anche un bambino e lui diceva ma io con tutti i miei sillogismi con tutta la mia sapienza non riesco a farla comprendere al al popolo alla massa e dice qua c'è qualcosa di satanico aveva ragione per quanto riguarda il discorso della moneta e ha ragione per quanto riguarda oggi il discorso per dire del covido o del vaccino è assurdo le contraddizioni che stanno manifestando questi signori e la gente sembra come dire incantata dal pifferaio magico che sta seguendo così senza farsi due domande senza chiedersi nulla fa esattamente quello che la propaganda gli sta trasmettendo attraverso la televisione e vedi ragazzi che si stanno vaccinando e come hai detto tu anche nei tuoi interventi precedenti nelle altre puntate c'è che cosa sta accadendo ragazzi che vanno in ospedale poi con trombosi c'è veramente è assurdo quello che sta accadendo però purtroppo sta accadendo sembrano letteralmente come dire a seguire un incantesimo di massa che noi sappiamo come è avvenuto è avvenuto lavorando sulle basse energie che vengono trasmesse attraverso la propaganda e la tv e a chi ha attecchito questa diciamo questa propaganda appunto è chi ha l'anima l'antenna dell'anima collegata sulle basse energie le basse energie quali sono ad esempio la paura il terrore ecco queste sono energie basse sono vogliamo collocarci sulle energie alte dobbiamo essere propensi verso il futuro verso il sogno verso la felicità ecco queste sono energie alte che vanno verso la luce verso un futuro rigoglioso chi ha l'antenna dell'anima su una frequenza invece un po più alta dove la paura della morte non ha attecchito vedi che non si è lasciato piegare da 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 questo indottrinamento di massa ecco perché io ritengo che non è una questione culturale tutto quello che sta accadendo non ce lo possiamo spiegare più culturalmente perché trovi persone letteralmente indottrinate al pensiero unico che possono essere sia laureate o magari contadini e dall'altra parte persone sia laureato casalingo contadini che non si sono lasciate attecchire dalla propaganda quindi un problema io sono convinto di questo un problema animico ecco però cosimo c'è un dato obiettivo che non possiamo fare finta di non vedere cioè che questo sistema che abbiamo dipinto adesso a grandi linee sembra granitico cioè tiene insieme tutta la classe politica tutta la classe giornalistica mainstream tutta la classe dei sedicenti scienziati dove ripetono tutti le stesse cose e quelli che dicono cose diverse vengono cacciati dall'università o comunque vengono messi in condizione di non nuocere i poteri cosiddetti di controllo non riescono a controllare nulla muoiono dei ragazzi di 18 anni o finiscono in ospedale con gravissime trombosi e non finisce in galera nessuno organizzano delle serate diciamo per vaccinare questi ragazzi con dei farmaci che sono da loro stessi sconsigliati perché a meno di 60 anni e non succede nulla se noi proviamo a dire queste cose veniamo perfino sono cacciati da questa riserva indiana che è la rete cioè insomma diciamo che con le forze umane è difficile immaginare di uscire cioè diciamoci la verità se non esiste ecco una dimensione metafisica la partita qui e ora è già persa o no? Allora hai pienamente ragione tant'è vero che la situazione da questo punto di vista è drammatica io ascolto anche sai poi siamo amici anche col professor Meluzzi che ha curato la preparazione del mio libro Usuro che si è svelata e lo dice testualmente oggi Meluzzi sta parlando con veramente come non mi piace di tutte quelle tematiche che erano definite da complottisti da microchip il controllo totale cioè questi signori veramente stanno arrivando hanno superato i film di fantascienza possiamo dirlo è inutile che sto a ripetere queste cose che comunque chi ci sente da tanti anni le conosce le conosce bene ma questo non ci deve fermare a continuare la battaglia ecco qui deve intervenire il libero arbitrio dobbiamo avere la forza di dover con il dovere di continuare perché è avere una visione anche che vada verso il trascendente perché se no non avremo più la forza di combattere e naturalmente dobbiamo affrontarla pure questa battaglia non permettendo loro di demotivarci cioè di spegnerci ti faccio un piccolo esempio vedi anche tu come porti magari col controcanto bellissimo che io appena posso vedo sempre con quel pizzico di satira con quel pizzico di sarcasmo cioè questi signori li dobbiamo rendere ridicoli io con un caro amico che si chiama Dario Pinelli lui è un gestista internazionale ci siamo ritrovati abbiamo deciso di fare come dire un format dove cerchiamo di rendere ridicoli con il sorriso e anche con un po di musica per portare come dire queste informazioni a quelle generazioni un po più giovani che magari non ascoltano i nostri discorsi troppo impegnati per far sì che non non si spenga quella voglia di lottare anche sotto altre forme sai tante volte mi dicono cosa ma perché e tu quando racconti queste cose sorridi o magari a volte rido pure no ma io non voglio che questi signori mi spengano il sorriso io non voglio che questi signori mi spengano la voglia di sognare io devo immaginare devo credere e voglio sognarlo questo mondo migliore e devo lavorare e lottare duro per far sì che questo mondo migliore venga donato alle generazioni future se non abbiamo una visione della lotta che vada oltre il trascendente cioè e che vada appunto oltre la diciamo la dimensione materiale e noi saremo sconfitti già domani ecco perché questa battaglia non la possiamo pensare solo da un punto di vista politico oppure da un punto di vista giuridico o solo da un punto di vista monetaristico o economicistico che è quello che tu sei bene io ho combattuto in tutti questi anni occorrono persone forti che si uniscono in veri valori fondanti della propria tradizione occorrono uomini io penso ad esempio a monsignor viganò che moralmente ci guidino pure è come dire come un bell'albero rigoglioso ha delle forti radici radicate nel terreno in modo che non cade al primo alito di vento ecco perché vogliono tagliarci le radici storico culturali è una chioma che sia rigogliosa che vada verso la luce verso il sole verso appunto quell'energia che è rappresentata dal sogno e dalla bellezza ecco perché dobbiamo avere questa visuale pur condividendo con te che sembra che questi signori oramai abbiano il controllo su tutto e non possiamo negare che non sia vero ma dobbiamo continuare dobbiamo non abbiamo altro da fare ci tocca continuare ecco io sottoscrivo le tue parole bisogna fare ogni giorno il massimo di ciò che è possibile perché la virtù è un premio per se stessa facciamo rivedere il libro di cosimo massaro eccolo qui scontro globale la battaglia spirituale i figli della luce contro i figli delle tenebre sottoscrivo pure quello che hai detto su monsignor viganò che è chiaramente oggi una delle persone che sul piano globale sta combattendo una battaglia molto difficile ma gli strumenti per demistificare diciamo questo grandissimo inganno e la sua voce molto forte comincia a fare breccia nelle coscienze nei cuori dei tanti che ancora possono sentire e possono capire grazie cosimo allora io innanzitutto comunque ti ringrazio nuovamente per avermi invitato grazie per aver presentato il mio libro faccio una comunicazione di servizio a tutti coloro che ci hanno ascoltato qualora volessero acquistare uno dei miei libri o anche questo libro mi aiutano nel nel mio impegno divulgativo visto che oggi faccio solo questo sia come lavoro che come battaglia e come impegno quindi mi possono contattare tramite il mio blog www.cosimomassaro.com e mi possono mandare anche un semplice whatsapp io di solito ho mantengo tutti i contatti con i miei lettori e poi si sta un bellissimo rapporto cerco di farlo perché sono contro il distanziamento sociale quindi voglio mantenere il rapporto con tutti il rapporto umano contattate cosimo perché cosimo è uno insomma che è un amico grazie un abbraccio bene cari amici di visione tv grazie per essere stati con noi durante questo nostro nuovo approfondimento io vi ricordo che anche visione tv vive soltanto grazie al vostro sostegno questi sono i numeri per aiutarci e permetterci di proseguire in questa nostra avventura editoriale se volete abbonatevi sul nostro sito che è diventato anche da poco un blog che sarà sempre migliore vedrete che usciranno una serie di articoli insomma abbiamo delle grandi idee dei grandi progetti in mente www.visione tv.it grazie ancora alla prossima